...degli studenti e quindi abbiamo l'opportunità di potervi insomma partecipare attraverso collaborazioni, siamo ben felici di quello fare, infatti quando appunto il NALU ci ha chiesto insomma una collaborazione per organizzare l'evento, siamo stati veramente onorati e quindi ci fa veramente piacere essere qua stamattina con voi. Insomma non vi voglio aggiungare troppo, voglio ringraziare il NALU, voglio ringraziare in particolare Giuseppe De Falco per altri ingegneri che ha volato tantissimo l'evento, voglio ringraziare le istituzioni, insomma test e vi auguro insomma un buon proseguo e una buona giornata. Grazie. Grazie.